L'ultima operazione antidroga della polizia locale di Arezzo parte da qui, via Provenza. La strada senza uscita è diventata una sorta di angolo del buco con siringhe abbandonate ovunque. È proprio qui che due agenti, attorno alle 16 di lunedì, hanno sorpreso un 48enne tossicodipendente all'interno di una cleo rossa mentre si iniettava cocaina con una siringa. Quando gli sono stati chiesti i documenti ha fatto retromarcia e da poco è servito l'alt intimatogli dagli agenti. È partito in quarta, urtando con lo specchietto una delle vigilesse presenti. È stato allora diramato l'allarme alle altre forze dell'ordine e così mezz'ora dopo gli stessi agenti della polizia locale hanno incrociato di nuovo il 48enne all'interno del parco del Pionta dove si era rifugiato per non andare più nell'occhio, ma anche questa volta ha pensato bene di cercare la fuga. In seguito a piedi, dopo aver negato di essere la stessa persona vista in via Provenza, si è arreso ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, a reato per il quale è stato poi processato per direttissime.